I rappresentanti di SEL in seno alla maggioranza hanno deciso di non partecipare più ad alcuna attività amministrativa finché non si chiarirà la posizione del sindaco sul passaggio ad Ato2. Oggi alle 16 l'assemblea dei lavoratori HCS all'aula Pucci, polemiche sindacali sulla partecipazione con l'UGL che invita gli operai a partecipare in massa. Rapina Lampo ieri pomeriggio in un supermercato di Ladispoli, un uomo armato di taglierino si è fatto consegnare l'incasso per circa 2000 euro, indagano i carabinieri. Nuoto Damiano Lestingi, di scena oggi e domani a Viareggio al Gran Premio Italia, in palio c'è il ticket europeo. Buongiorno e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori con un nuovo appuntamento con il Tg dell'Arto Lazio. Come abbiamo visto subito dai titoli di apertura ancora polemiche in maggioranza. O il sindaco Pietro Tidei fa chiarezza sulla questione acqua oppure non parteciperemo ad alcuna attività politica dalle commissioni e consigli comunali alle riunioni di giunta. Non usa mezzi termini il capogruppo Seli, Ismaele e De Crescenzo. Il partito spiega ha dato un mandato ben preciso. Il primo cittadino continua a parlare di Acea come se la gestione dell'acqua restasse pubblica e tutti sappiamo che non è così. Insomma, il programma del centro-sinistra deve essere rispettato. Fino a quando il sindaco non deciderà di riallinearsi al programma, non prenderemo parte all'attività amministrativa. Un out-out partito già questa mattina. I due consiglieri di Sela, Agostini e me, infatti non si sono presentati in commissione bilancio. E probabilmente anche i due assessori vendoliani, Serpente e Luciani, non prenderanno parte alla giunta. Se non dovessimo ottenere un chiarimento entro lunedì a inoltre annunciato De Crescenzo, salteremmo anche il consiglio comunale. E proprio sulla questione acqua, qualche giorno fa il capogruppo Seli, Ismaele De Crescenzo, aveva provato a lanciare una proposta per dare una scossa alla maggioranza e riallineare tutti in primis t-day al programma del centro-sinistra. Portiamo in consiglio comunale la delibera pronta da mesi, ha spiegato De Crescenzo, per evocare quella del commissario Di Caprio. Qualora l'atto non dovesse scongiurare il passaggio ad Acea, per i consiglieri almeno si darebbe un chiaro segnale politico non solo ai civi tavecchiesi, ma anche alla regione. E De Crescenzo prende ad esempio da imitare il sindaco di Radispoli, che ha chiaramente detto no ad Acea Ato 2. Un consiglio comunale dunque dove provare la tenuta della maggioranza. Intanto, per controreplicare al sindaco che aveva definito una manna dal cielo l'ingresso in Acea, il consigliere del PD, Flavio Magliani, usa l'ironia. Sinceramente, siamo stanchi di ringraziare tutti questi benefattori della nostra città, come l'Enel, Tirreno Power e ora anche Acea. E cambiamenti in vista anche sulla destinazione dei terreni talcementi, quelli relativi cioè al PZ10, che la delibera approvata in consiglio comunale qualche mese fa aveva stabilito sarebbero stati affidati all'Ater per la realizzazione di alloggi popolari. A quanto pare, infatti, l'amministrazione comunale avrebbe deciso di affidarli alle cooperative per la realizzazione di alloggi in edilizia sovvenzionata. Un cambiamento poco gradito dai membri di maggioranza della Commissione Urbanistica, che hanno chiesto ulteriori approfondimenti in materia, portando dunque al rinvio della discussione in consiglio comunale. Ma per i particolari sentiamo il servizio. I terreni del PZ10, di proprietà degli talcementi e trasferiti al Comune, potrebbero essere destinati alle cooperative anziché all'Ater, come scritto nella delibera alla fine votata anche da SEL e strettamente legata all'accordo sui cinque punti, sottoscritto anche dal PD a poche ore dalla discussione in consiglio sugli talcementi. Questo emergerebbe da indiscrezioni provenienti da alcuni consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza. A quanto pare, infatti, i fondi stanziati dalla regione alle cooperative che si dovrebbero occupare della realizzazione di appartimenti in edilizia sovvenzionata, scadrebbero il 31 dicembre. Quindi c'è fretta di dare loro un'area dove poter costruire. Per gli altri piani di zona, eccezione fatta del Pizzata 4, manca ancora invece la VAS. Una possibilità poco digerita però dai consiglieri. In questo modo, infatti, l'Ater dovrà aspettare ancora prima di poter realizzare gli alloggi popolari. Ma non solo, nei prossimi mesi i soldi ad oggi disponibili potrebbero non esserci più. Problema presente anche sul Pizzata 4 che nessuno vorrebbe a causa delle rimostranze dei residenti del quartiere. Intanto, i consiglieri De Crescenzo, Lungarini, Tomassini e Magliani hanno chiesto ulteriori approfondimenti e quindi la commissione urbanistica di ieri pomeriggio è stata aggiornata e lunedì dovrà essere rinviata anche la discussione del provvedimento in consiglio comunale. A non capire intanto il motivo delle polemiche nate intorno all'affidamento dell'area in questione alle cooperative anziché all'Ater, è il sindaco Pietro Tidei. I fondi delle cooperative scadono il 31 dicembre, ha detto. Perché allora non dare loro la possibilità di costruire alloggi? Per quanto riguarda l'Ater, per Tidei non ci sono problemi. I soldi sono sempre dentro al cassetto e non vanno da nessuna parte. E si dice pronto a procedere ad un affidamento di un piano di zona non appena la regione avrà concesso la VAS e prima che possa verificarsi il possibile accorpamento della nostra Ater con quella di Roma. E le polemiche non sono presenti soltanto in maggioranza. A quanto pare in questi giorni infatti sul tema HCS si sono scatenate anche le organizzazioni sindacali. L'invito tutto per la convocazione di un'assemblea a questo pomeriggio dalle 16 alle 18 all'Aula Pucci convocata appunto dall'USB. Intervengano tutti i lavoratori di HCS all'assemblea in detta oggi perché si tratta del loro futuro. Questo appello è stato lanciato proprio ieri dalla coordinatrice territoriale dell'UGL Fabiana Attig che accusa anche gli altri sindacati di voler boicottare l'appuntamento. Ma sentiamo i particolari nell'intervista. Questa è un'assemblea innanzitutto che ci tengo a precisare è voluta dai lavoratori che hanno fatto una loro assemblea interna, quindi l'RSA di HCS 15 giorni fa dove hanno chiesto espressamente a tutte le sigle sindacali di indire un'assemblea pubblica con l'amministrazione comunale, i liquidatori e gli amministratori per fare il punto della situazione. Quindi un'assemblea voluta dai lavoratori che serve per i lavoratori. Qui non c'è stata nessuna fuga in avanti da parte di nessuno. Semmai il contrario, il tentativo di scalzare due sigle sindacali una delle quali l'USB, l'UGL per quanto ci riguarda non prende ordini da nessuno perché domani si discuterà del futuro dei lavoratori quindi dei posti di lavoro della gente e delle famiglie. Qui non ci sono beghe da salvaguardare. Si tratta semplicemente di fare il punto ad una situazione che è un anno e mezzo di stallo e io sarò davanti a tutti i lavoratori per poter mettere fine la parola a questo contenzioso che va avanti da troppo tempo. Ricordo un'ultima cosa, che qualcuno sta cercando di sabotare l'assemblea di domani. Io dico ai lavoratori di venire in massa perché domani si parlerà del loro futuro, della loro occupazione e del futuro che daranno ai loro figli. Per quello che mi riguarda io porto avanti questa battaglia senza permessi sindacali. Non sono pagata dal sindacato, non devo rispondere a nessun partito a differenza di chi invece ha i distacchi e i permessi sindacali nonché i distacchi lavorativi e viene pagato per fare questo e mi pare che da un anno e mezzo a questa parte abbia prodotto soltanto chiacchiere. L'UGL è pronta ad andare avanti anche da soli. Noi non vogliamo rompere il tavolo unitario perché non è partita da noi questa guerra. Altri dovrebbero farsi un bel esame di coscienza. Quindi i lavoratori domani tutti all'aula Pucci per chiedere conto del vostro futuro. Non date retta a chiacchiere o a sigle sindacali. La prima è la mia. Io dico venite perché è per voi, non è per altri. E ricordando che l'Assemblea pubblica dei lavoratori di HCS si terrà proprio questo pomeriggio dalle 16 alle 18 all'aula Pucci a chiedere unità soprattutto sindacale sulla questione HCS è proprio l'USB. Rombare fronte sindacale è un gioco molto pericoloso specie quando si ha davanti un sindaco esperto come T-Day soprattutto quando non c'è ancora uno straccio di piano industriale su cui ragionare o una trattativa da raccontare mentre il tempo scorre verso la data della messa in mobilità dei lavoratori. E sarà fatta brillare il primo dicembre prossimo la bomba della seconda guerra mondiale ritrovata mercoledì durante i lavori di riqualificazione del porto storico. Lunedì il sindaco T-Day incontrerà il prefetto di Roma per definire i dettagli dell'operazione. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Verranno concordati lunedì prossimo nel corso di un apposito vertice in prefettura i dettagli dell'operazione organizzata per far brillare l'ordigno bellico rinvenuto mercoledì nel corso dei lavori di riqualificazione del porto storico. Bomba sganciata dagli angloamericani il 14 maggio 1943 contro le navi ormeggiate nello scalo. La data scelta è quella di domenica 1 dicembre tra le 10 e le 12 del mattino. Saranno evacuate circa 5.000 persone nel raggio di 500 metri dal punto in cui è avvenuto il ritrovamento ha spiegato il sindaco Pietro T-Day. Tutto dovrà avvenire nel massimo della sicurezza durante le due ore di intervento che vedrà protagonisti gli artificieri di Roma già sul posto nei giorni scorsi per una perizia tecnica sulla bomba dovranno essere sfollati tutti coloro che abitano o lavorano nell'area che verrà delimitata. Verrà bloccata inoltre la circolazione ferroviaria ed evacuata anche la stazione. Una volta concluso il vertice in prefettura e verificati tutti i dettagli dell'operazione il sindaco emetterà un'apposita ordinanza per consentire ai cittadini di avere tutte le informazioni a disposizione e rispettare così le procedure di sicurezza. E dopo i leoni del pincio la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha finanziato anche il restauro della lapide con i prezzi del pesce sposta all'ingresso del piazzale davanti al comune. L'inaugurazione della targa si terrà domani mattina a partire dalle 10. Adesso ci spostiamo nel comprensorio precisamente alla Dispoli dove ieri pomeriggio alcuni dipendenti di un supermercato della zona sono stati aggrediti da alcuni malvimenti una rapina lampo infatti nel pomeriggio in un supermercato in azione un malvivente che armato di un taglierino si è fatto consegnare l'intero incasso per un importo di circa 2.000 euro una vera e propria rapina lampo secondo quanto ha preso pochi minuti dopo l'accaduto l'uomo infatti sarebbe fuggito subito a bordo di un'auto non si sa se con l'ausilio di un complice subito all'estati i carabinieri della compagnia di Civitavecchia e della locale stazione di Ladispoli sono intervenuti con 5 macchine 4 di colore e una in borghese per tentare di rintracciare il fuggitivo in un primo momento i militari del capitano Lorenzo Ceccarelli hanno ipotizzato un fatto di più grave entità tutto è accaduto in una manciata di minuti intorno alle 18 le ricerche del rapinatore si sono protratte fino a tarda sera ora in cui i militari hanno cercato di ricostruire l'identikit del malvivente attraverso segnalazioni e testimonianze un altro progetto che sta per realizzarsi è quello della ristrutturazione dei locali della biblioteca comunale una volta fatiscenti di Santa Marinella dopo una serie di interventi è stata montata la scala interna ora manca solo la sistemazione delle mure esterne per chiudere il cantiere le opere che si sono protratte per oltre 10 mesi hanno consentito il recupero delle sale sotterranee che saranno destinate alle attività bibliotecarie per bambini e ragazzi con la realizzazione della mediateca e di una sala di audiolettura il piano terra diverrà il front office della struttura con un'ampia sala di circa 90 metri quadrati che sarà utilizzata anche come sala convegni dove continueranno a svolgersi consigli comunali il primo piano ospiterà un'ampia sezione bibliotecaria per lo studio e la lettura e sarà inoltre recuperata e messa in sicurezza anche la copertura dell'edificio che potrà essere utilizzato per conferenze esterne e presentazione di libri nel periodo estivo i tre piani saranno collegati da un'unica scalinata e da un ascensore il costo dell'opera si aggira intorno ai 600 mila euro di cui 490 finanziati dalla provincia di Roma collaborazione tra l'università agraria e consorzio di bonifica della mare metrusca per il quinto cantiere pilota di ingegneria naturalistica in un fosso di scolo in località Pietrara adiacente a una strada interpoderale fra alcuni terreni gestiti dall'ente metodi efficaci e innovativi di tutela del suolo e l'uso di materiali naturali come pali in castagno, pietrame e talee di salici provenienti dal vivaio dello stesso consorzio di bonifica realizzato in collaborazione con la regione Lazio e l'università degli studi della Tuscia spiegano dall'agraria hanno garantito la riduzione dei costi e della durata dell'intervento perché integrato con l'ambiente circostante nel dettaglio l'opera ha visto la realizzazione di brilli legname e pietrame la sistemazione di spondali impalificate e riverdite per rallentare il deflusso dell'acqua e per evitare fenomeni erosivi e desondativi il cantiere è stato reso possibile grazie al finanziamento della regione Lazio rappresentata dall'ingegner Francesco Gubernale responsabile dell'ingegneria naturalistica area difesa suolo anche i volontari dell'AEOPC Tarquinia sono pronti a partire per la Sardegna in forza alle colonne mobile nazionale di protezione civile dell'AEOPC Italia con il Moldavi in attesa della chiamata ufficiale l'associazione ha istituito una raccolta di beni umanitari di prima necessità alimenti e vestiario per la popolazione della Sardegna duramente colpita dall'alluvione i beni si possono portare tutti i giorni presso la sede operativa dell'AEOPC Tarquinia in via delle Torri 20 dalle 17 alle 19 e 30 ed appena insediato e subito all'opera il consigliere d'opposizione del comune di Allumiere Vincenzo Sgamma il battagliero consigliere del gruppo Convoi per Allumiere ha infatti protocollato un'interrogazione al sindaco Battilocchio con richiesta di risposta scritta in tema di viabilità rurale per l'anno 2013 chiedo al primo cittadino spiega Sgamma se ha conoscenza del fatto che dopo le pioggi di questi giorni ci sono grosse difficoltà sulle strade denominate Melledra e Torcimina in quest'area il manto stradale è molto scivoloso e dissestato e quindi urgono interventi per evitare ulteriori disagi a chi di quelle strade se ne serve e passiamo adesso alla nostra pagina sportiva come abbiamo visto dai titoli apriamo con il nuoto ritornano in vasca i tritoni che dopo l'ultima sessione di allenamento sono partiti con destinazione via Reggio dove scenderanno in acqua il Gran Premio Italia in Vasca Corta per affrontare oggi 100 d'orso e domani 200 d'orso previste entrambe come gare a serie ovvero senza la batteria che dà la qualificazione alla finale situazioni diametralmente diverse quelle dei due notatori allenati dal coach Fabio De Santis per Luca Mencarini le due prestazioni in programma avranno il sapore di vere e proprie prove generali in previsione dell'europeo in Vasca Corta di Erning in Danimarca al quale è già qualificato grazie al tempo ottenuto al Mondiale Juniors a Dubai mentre Damiano Lestingi da poco ripresosi dall'intervento all'Erning inguinale che lo ha tenuto lontano dalla piscina per 15 giorni si giocherà l'accesso alla competizione del vecchio continente proprio nei due giorni di gare previste a Via Reggio una sola chance dunque per il nuotatore Civita Vecchiese che non potrà nemmeno prendere confidenza con l'acqua della Vasca Corta dato che non è prevista la batteria e cercano conferme le squadre locali di calcio a 5 femminili al vertice del girone Viterbese di Serie D oggi alle 21 a San Liborio la femminile della Termini ospita l'Accordia la Tirrenia Enel e di Scorpioni in discena invece alle 15.30 sul rettangolo del Real Teverina e torna a giocare e a vincere alla Carducci la squadra Under-19 del Pirgi il Maccarese è stato infatti battuto per 80-63 nella terza giornata di campionato questa era la nostra ultima notizia vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che per gli aggiornamenti il telegiornale va in onda questa sera alle 19.45 grazie per l'attenzione